È possibile lesbicizzare una ragazza a comando, a parte i scherzi, ma non troppo, sarebbe possibile far provare ad una ragazza donna, dopo ovviamente se ci è stato letto diverse volte, esperienze nuove e particolari, come farlo a tre e quindi con me e un'altra donna insieme a lei, anche se lei può avere dei pregiudizi che non le piace, che non l'avevi fatto, eccetera. Se sei nuovo qui, io sono Luca, fondatore di Approciala.it, un'azienda di formazione che dal 2018 ha aiutato oltre 1200 uomini a passare da timido o vergine a portarsi letto nuove ragazze regolarmente. Tutto questo viene fatto tramite videocorsi online, corsi al vivo con dei nostri coach e percorsi di consulenza personalizzati. Per questa cosa trovate la risposta direttamente nel corso Amici con benefici, dove trovate direttamente una lezione su come fare cose tre. Però io quando faccio uscire i corsi, sarebbe bene prenderli, visto che vengono fatti direttamente sulle domande, i problemi, gli obiettivi che ci manifestate. Quindi non è che le vai a lesbicizzare, quindi le vai a mettere la pulce nell'orecchio, le chiedi se ha già avuto esperienze, ma molte volte lo fai quando c'è già fatto sesso. In certi casi puoi anche già chiederglielo durante l'appuntamento, anche prima che ci arrivi al sesso. Per esempio, una domanda che vi suggerivo di fare in conversazione magnetica, delle volte, è per esempio arrivare a chiedere, con tutta una volta un'escalation verbale, chiedere per esempio per quale attrice o cantante diventerebbe lesbica. Quindi chiaramente dovete fare in maniera contestuale questa domanda, non è che dovete tirarla fuori così a caso. E già lì vi fate un'idea. Se vi risponde in maniera pronta, se vi dice che magari ve lo dice già lei, che è bisessuale. Se è bisessuale, molte volte ve lo dice lei quando fate questa domanda qui. E oppure per esempio, alcune volte io lo facevo con... Quando ne parlavo prima del sesso, durante l'appuntento, ne parlavo quando magari eravo in argomento tatuaggi. Io avevo conosciuto in passato una ragazza che c'era un tatuaggio ovunque, una strafiga allucinante, c'era un tatuaggio ovunque, c'era un tatuaggio enorme sul petto. E quindi facciamo le bocce. E quindi parlando di tatuaggi, faccio vedere questa foto di questa ragazza qui, alla ragazza con cui ero in appuntento, facendo vedere il tatuaggio. E poi come domanda ci aggiungevo, ti piace questa ragazza? La vorresti conoscere? E lì, vedi cosa ti risponde? Mi ricordo volta una che mi aveva detto, eh magari... Infatti poi si è rivelata essere bisessuale. E quindi tu non è che convinci una ragazza che è etero, essere bisessuale o lesbica o quello che è, ma testi la sua apertura mentale. Vedi se già lo è. Qui come diceva Donald Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti, che tipo diceva, ah ma come possiede tutte le persone che assumi te sono sorridenti? Adesso non mi ricordo, le persone che assumi per il customer service, per il supporto clienti negli hotel. Lui c'ha, se non sbaglio, una catena di hotel anche. E tipo c'era alcuni gli chiedeva, come possiede tutti quelli che assumi sono sorridenti? Come fai a insegnargli ad essere sorridenti? Diceva, ma io mica gli insegno ad essere sorridenti. Io assumo già persone che sono sorridenti. Così non devo insegnargli, stessa cosa qua, non è che converti una ragazza da etero a bisessuale o lesbica. Testi un attimo sull'apertura mentale. Se non l'ha mai fatto, puoi chiederle se ci fai impensato o se le piacerebbe. Se vuoi scoprire come possiamo aiutarti a passare da timido o vergine, a portarti letto a nuove ragazze regolarmente, allora clicca sul link qui sotto in descrizione e prenota una consulenza gratuita.